allora sono qui con solido 20 23 e siccome questo assieme l'avevo fatto con la 20 24 stavo cercando di fare un discorso sulle sulle tolleranze control analyst e due tre volte esce e si blocca e dunque ho detto perché un service pack 2 ho detto provo con la 20 23 però naturalmente la 20 23 che è la versione dovrebbe essere 5 service pack 5 mi vede però naturalmente non posso modificarli perché lui mi dice che questi qua sono una versione più recente ok versione futura file di versione futura allora ho pensato lo salvo come parte sldp 20 23 però se io vado a fare salva con nome ok salva con nome ok però com'è che me lo fa salvare non me lo fa salvare in sldpr t ma me lo fa salvare in uno dei formati non non di solidox e fa salvare in tutti tranne che con solidox invece serve comodo poterlo salvare in solidox perché mai io posso salvarlo in parasholid e dopo lo riprendo per carità ma anche qua file salva con nome salva con nome vediamo se me lo salva non me lo salva neanche con l'assieme dunque io dopo devo ricreare l'assieme per forza va vera semplicemente per perché cavoli non me neanche sostituito caspita vale no perché voglio provare con la versione 20 23 perché mi si coltora l'analista con le cose di orientamento mi si blocca tutto e va bene e lo chiamo uno va bene un beccato butto via bamba ci vediamo la prossima arrivederci arrivederci